Ciao, sono Austin Duque, ho 20 anni, gioco in una squadra che si chiama TOTA SPORT, i miei passioni da sportivo sono calcio e basket, adesso vi presento tutti i miei compagni che ho conosciuto e che giochi insieme e facciamo tante esperienze insieme. Noi abbiamo un sogno, conoscere tutti i giocatori, tutti gli allenatori che vogliamo conoscerli e vogliamo invitarvi a giocare con noi e per questo io mi sfido, aggettate la mia sfida del cuore. Ciao Austin, accetto la tua sfida del cuore e ti aspetto presto in campo e non vedo l'ora di conoscerti.